Sindaco Maurizio Brucchi, i lavori sul Teatro Romano vanno avanti, a che punto siamo? Oggi è iniziato lo spostamento dei reperti, così come avevamo detto, con un po' di ritardo ma fisiologico. Le pietre torneranno, quelle di pertinenza, dentro il teatro, le altre andranno alla cona. La cosa importante è che il progetto va avanti, ma soprattutto anche che Via Paris viene restituita ai cittadini di Tiaramani finalmente dopo diversi mesi. Verrà risistemata quella strada ovviamente, ma insomma io sono contento che il progetto del Teatro Romano in un momento così difficile riesca ad andare avanti. Non è facile portare avanti i progetti strategici, qualcuno ha detto qualche tempo fa il Sindaco rinuncia ai progetti strategici, il Sindaco non rinuncia ai progetti strategici, l'amministrazione comunale non rinuncia a quelle che sono le scelte importanti. Però si rende conto che in questo momento è difficile chiedere ad un privato o chiedere ad un imprenditore di partecipare ad un progetto, stante il fatto che comunque l'amministrazione comunale da sola non li può portare avanti. Questo credo che lo capisca anche un bambino, per cui le polemiche veramente lascio il tempo che trovano. Teatro Romano, andiamo avanti, presto la prossima settimana sarà pubblicato il bando che è pronto e quindi presto avremo anche il progettista che farà la progettazione definitiva esecutiva.